Buonasera a tutti. Allora, Roberto Severini da qualche giorno ha lanciato un'idea, anzi meglio ha posto una questione, mettiamola così, la cosiddetta questione del nord. Ci vuoi spiegare un pochino che cosa intendi con questa frase ad effetto che effettivamente ha fatto breccia un po', della questione del nord si comincia a parlare, ma che vuol dire? Buonasera a tutti. Io ho usato un termine forte come apriamo la vertenza del nord perché in effetti quando vedi che all'interno della stessa aula di maggioranza nasce addirittura questa proposta da un consigliere di maggioranza, quello di dire ma sì, in effetti in questa aula ci sono otto, nove consiglieri del nord ed escono sempre fuori le problematiche del nord ma mai affrontate, e questo non fa altro che spronare a rivendicare sempre quelle problematiche del nord da sempre abbandonate. Per vertenza del nord è semplice, che cosa discutiamo? Discutiamo il fatto che mentre da una parte c'è uno stanziamento di oltre 3 milioni di euro su Foce Micina e su Torre Clementina e vie limitrofe, dall'altra lamentiamo un'intera zona, un intero quadrante del comune che conta quasi 30 mila abitanti che non vede opere. Noi avevamo nelle opere triennali tre opere importanti del nord a partire da Ponte Ceci, che da quando sono venuto a abitare a Fiumicino sento parlare di Ponte Ceci e addirittura non abbiamo i pareri, quindi in dieci anni non abbiamo trovato i pareri, forse non abbiamo avuto la volontà politica di andare a cercare questi pareri e questo mi fa pensare come da una parte si spostano 3 milioni di euro per fare un plateatico e per fare i mosaici a Torre Clementina con tutto il rispetto di chi abita a Torre Clementina e dall'altra noi abbiamo intere zone, Traiata, Traiatella, Palidoro, Aranova, Maccarese, Freigene, Focene, Castel Campanile, che non vedono interventi, quindi questo significa aprire una vertenza del nord. Vogliamo definire meglio questo nord perché il nord è vasto, il comune di Fiumicino è vasto, cosa intendi tu per nord del comune? Ma il nord sono tutte quelle zone che come ho detto adesso non vedono interventi seri da parte, non di questa, perché io voglio precisare, non si parla di questa amministrazione, si parla di 27-28 anni di nascito del comune di Fiumicino, ci sono queste zone e ripeto dall'estremo nord, chiamiamolo così, Traiata, Traiatella, ad avvicinarsi forse qualcosetta in più verso Freigene o Focene, ma quelle altre zone non hanno visto niente a livello di espansione. Scusa se ti faccio la domanda provocatoria, qualcosetta in più, Freigene ha avuto un lungomare, non è qualcosetta? Sì, però ha un'erosione che si sta mangiando le strade, si sta mangiando la spiaggia, i stabilimenti, le case, la pista ciclabile, si sta mangiando tutto. Pista ciclabile pure su Focene è stato comunque un risultato? Sì, anche quella, la linea del mare ha superato la pista ciclabile, se non ci fosse l'oasi con le tune che protegge un pochettino Focene, il mare sarebbe entrato dentro a coprire anche le piste ciclabili, quindi anche quello è un importante intervento che è stato rimandato per negligenza, non lo so. Quindi quello che tu chiami vertenza del nord o questione del nord, in sostanza è una programmazione che segua un timing che poi viene rispettato, non tanto gli annunci di opere. Ma sì, annunci siamo pieni, quindi evitiamo gli annunci. Io dico che manca una programmazione, il comune è talmente grande che ora da consigliere, mi rendo conto, è molto difficile dare le risposte all'intera località. Però è vero pure che va fatta una programmazione. Nel nord non vedo una programmazione futura, quindi forse è il momento di iniziare a riflettere su dove andare a intervenire negli interventi proprio di riqualificazione del territorio, perché a livello strutturale, a livello di servizi, a livello di viabilità, a livello di trasporti, a livello di tutto quello che necessita una grande città, manca il nord. Il nord i progetti per crescere ce li ha? Sì, manca il fattore principale che è la volontà politica. Speriamo di riuscire a far inserire quello, una volta inserito quello forse risolveremo qualche problemina al nord. Il nord i progetti per crescere.